Buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento. In attesa della Minute della Fed, la seduta odierna non è stata tra le più movimentate, per usare un eufemismo. Ricordiamo inoltre che negli Stati Uniti il mercato è in clima prefessivo, domani infatti sarà il giorno del ringraziamento. Dalla nostra mappa del mercato notiamo infatti un certo equilibrio tra acquisti e vendite, equilibrio che si manifesta anche nelle percentuali. Il Fuzzimib per esempio, a parte una discesa nei primissimi minuti, subito recuperata, ha avuto un movimento piuttosto laterale, di poco sotto alla linea dello zero. Il DAX invece riesce a chiudere appena sopra la parità ma con una variazione assolutamente frazionale, più 0 e 0,4. Pochi scossoni anche a Wall Street, perlomeno per quanto riguarda l'indice Dow Jones. Più marcato invece il rialzo del tecnologico Nasdaq, che al momento sta superando nettamente il mezzo punto percentuale. A piazza affari alcuni petroliferi spiccano il volo, così Saipem occupa la pola ad un soffio dal più 5%. Il titolo del comparto oil è stato favorito anche dagli analisti di Societe Generale. Si apprezzano anche alcuni industriali, CNH Industria, l'avanza del più 3,20% in scia alla trimestrale favorevole del gruppo DR e Prismian, supera di qualche decimo di punto il 2%. Ben comprato il settore farmaceutico con amplifono vicino al più 2 e, ricordati, poco sotto al punto e mezzo di guadagno. Tenaris viaggia in controtendenza rispetto ai titoli del settore e sul finale registra due punti di ribasso. A2A, dopo l'aggiornamento del piano strategico al 2030, scivola in area negativa ad un soffio da almeno 2%. Dopo tre sedute di modesto rialzo, sia Unicredit che Stellantis, si prendono una pausa registrando passivi vicino al punto e mezzo percentuale. Vendite su Telecom sotto almeno 1. Sul Forex prosegue la corsa rialtista di euro-dollaro che dura ormai dalla mattinata di ieri. Nel pomeriggio il cambio era arrivato anche in area 1,03 e 80 prima di scendere leggermente. Perdono invece ampio terreno altri cross come euro-ieno sul mezzo punto percentuale di discesa ed euro-sterlina che il mezzo punto invece lo supera. L'ultima nota di oggi è l'intervista al trader Pietro Di Lorenzo. Salve a tutti per le interviste di Trader Link, ospite di oggi Pietro Di Lorenzo, trader indipendente, ideatore di SOS Trader e degli eventi investing. Allora Pietro, mercati, mi dicevi, in clima prefestivo. Cosa sta succedendo? Sì, è vero, questa è una settimana particolare perché negli Stati Uniti sostanzialmente si va a una settimana in cui giovedì i mercati sono chiusi per il Thanksgiving. Come sai è una festività molto sentita fra tacchino ripieno e quant'altro. Poi il giorno dopo invece c'è tutti a fare shopping con il Black Friday e quindi mercati che negozieranno per metà diciamo del tempo. Quindi è evidente che i mercati americani catalizzano un po' l'attenzione ai volumi e quindi questa sostanzialmente sarà l'ultima seduta con volumi interessanti. Fra l'altro è una seduta importante perché arriveranno stasera le minute della Federal Reserve e da lì si capirà quale sono state, quale è stato il movente dell'ultima decisione e soprattutto quale saranno le intenzioni future della Federal Reserve. Nel frattempo il mercato è in una fase un po' di oblio nel senso che questa ad esempio è il grafico intraday, adesso sono le 11.22, come vedi un traccheggio sostanziale, non c'è direzionalità, non si ha il coraggio di andare long dopo un rally così poderoso e passo al grafico giornaliero che mostra la rapidità del movimento ascendente che ha caratterizzato i prezzi del Futsimib a partire dal 13 ottobre, quindi non si ha il coraggio di andare a comprare sotto area 24 e 5, ma al contempo non si ha neanche il coraggio di vendere un mercato così forte. Da qui nasce questa sorta di tentennamento, di questa fase interlocutore in cui si fa sostanzialmente un passetto avanti e un passetto indietro. Io penso che una correzione sia fisiologica perché è un movimento così ripido e insostenibile nel tempo e quindi se dovessi battezzare una direzione del breve, nel breve certamente andrei più a shortare l'indice piuttosto che a comprarlo e in particolare magari andando su singole storie che magari possono essere più, diciamo, sulle quali possono scattare delle prese di profitto più rapide. Quindi in conclusione ci attendiamo insomma le ultime due giornate a settimana abbastanza tranquille e con una predilezione verso uno short selling sulle azioni italiane che probabilmente hanno adesso il fiato corto, hanno bisogno di un piccolo storno prima di un eventuale reddito di fine anno. Perfetto Pietro, io ti ringrazio per tutti i suggerimenti, con te rimando l'appuntamento alla prossima volta. Grazie mille. Grazie Rossane, grazie Pietro, si chiude dunque l'appuntamento odierno, grazie come sempre per la visione, arrivederci a domani.